ti andrò a fare un bel massaggio al viso e vado ciao 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 grazie di essere qui 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 oggi oggi sentite anche la pioggia in sottofondo non sono messa io ma è reale piove questo video è pensato per darti conforto nel giornate in cui soffri maggiormente di stress o in generale per tutte le volte che ti rendi conto che lo stress sta prendendo un po' fino al sopravvento purtroppo nella nostra società è normalizzato però vorrei un attimo darci una mano e darti questi momenti per togliere lo stress proprio dalla tua vita e da questo momento per prima cosa visto che so che a volte lo stress ci rende anche un pochino iperattivi ho portato due anti stress e te lo faccio scegliere il primo il primo è questo lama 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 parecchio squishy è proprio fatto per riprendersi piano 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 carino oppure posso avere questi che ti permette anche di fare questa pallina che ti permette anche di farti un minimo assaggio mentre la manovri quindi e se fai così ti permette anche di farti un piccolo massaggio rilassante alle mani quale vuoi ok lama o pallina il lama si questo è proprio pensato però è quando non riesci a stare fermo ma comunque devi stare fermo ok questo va a te carissimo e adesso voglio offrirti una tisana ma prima ti dico un po' il programma adesso ti mostro la tisana che hai scelto per te in modo che possa tu possa rilassarti per bene e poi ti andrò a fare un bel massaggio al viso un po' decontratturante rilassante contro lo stress con un balsamo apposta con un odore apposta e poi dei movimenti pensati per ridurre lo stress andiamo quindi a fare una serie di movimenti anche hand movements e poi alla fine ci sarà una sessione di colori ma dopo vedremo tutto bene ho scelto per te questa tisana ti lascio poi se vorrai qualcosa che utilizzi in questo video ti lascio tutti i riferimenti giù in descrizione ho preso ho preso questa tisana che si chiama fuoco del caminetto ed è una tisana confortevole e avvolgente imbuso con mela cannella e vaniglia iper autunnale un imbuso che ricorda il calore del fuoco scoppiettante i pezzi di mela e le note speziate della corteccia di cannella si fondono con i dolci profumi un midi robo 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 come si legge? non lo so mentre sentori di mandorle e vaniglia creano un momento di conforto nei giorni più freddi un caldo rituale quotidiano te la faccio sentire intanto ha cominciato a piovere veramente veramente forte e le fa che c'è che fai che c'è il che c'è che c'è che c'è che c'è un nuovo sapore vedi ci sono tutti i pezzettini di mela, cannella e rinimisco penso ha un odore proprio caldo e avvolgente impazzisco, buonissima e ti verserò la tisana in questa tozza stupenda stupenda a forma di renna e no le corno non sono scomode non vanno negli occhi mentre bene prendo anche un filtro perchè è una tisana sfusa bellissimo questo suono bellissimo questo suono ha destructive the bellissimo dic bellissimo 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 te la faccio vedere meglio da vicino riesci a vederla con tutti i pezzettini e anche il bollitore quando c'è l'acqua pronta ok questa intanto la lasciamo in infusione della pozzo di fianco a te e poi quando la vorrai potrai sassaggiarla con calma questa aspetterei anche 5 minuti di infusione è ancora bella calda e adesso come ti avevo anticipato andiamo a usare uno dei nostri prodotti preferiti non so se te lo ricordi, te l'ho mostrato qualche volta si tratta di stress stress, distress, palma e un palma, olioso, ti faccio sentire l'odore, la base si sente che è lavanda, però poi c'è qualcosina anche di, non so come dire, quegli odori balsamici ecco, c'è un qualcosina di balsamico, ti entra dentro e ti si espande in tutto il corpo, proprio è una sensazione stupenda, ne prendo un pochino e adesso vado a farti dei movimenti rilassanti sul viso dei massaggi, che andranno proprio a sciogliere, sciogliere, sciogliere le tensioni ok? te li mostrerò prima sul mio viso per farti capire cosa vado a fare e dopo andrò sul tuo ma prima chiudi gli occhi e ispira senti quel trovalma entrarti proprio dentro e rilassare tutto il corpo allora andrò prima con un massaggio leggero al collo così ok? ok ok rilassare rilassare un attimo il collo ti mostro anche i movimenti così magari li potrai anche ricreare tu ok? adesso appoggio ti appoggerò i due pallici sotto al mento apro le mani e vado pian piano a premere sotto qui e porto dal mento e salvo e intanto comincio a fare di pressione anche un po' sul viso quindi tutto così metto due dita sotto al mento le mani sul viso e vado e vado e vado e vado e ancora un altro un altro un altro un altro un altro l'ultimo metto un pochino più di pressione adesso andremo a dedicarci alla zona delle orecchie ok? alla zona delle orecchie metterò un pochino più di pressione perché secondo me è molto molto rilassante e andrò proprio a concentrarmi qui quindi anche proprio qui dietro risalendo ok? parto dal collo arrivo qui e salgo parto dal collo arrivo alla base delle orecchie si separano le dita e salgo questo movimento qui e riscendo e risalgo e riscendo ok? ciao 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 molto bene molto bene adesso invece ci andiamo a concentrare qui tra la mandibola e la macella su questo muscolo su questo muscolo qui che di solito è molto diso tende ad accumulare stress quindi andremo a massaggiarlo ok? ok? soprattutto qui sentirai? ok? bellissimo qui andiamo un po' 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 eccoci qua ora facciamo gli ultimi due miei movimenti andiamo a massaggiare tutta questa zona qui intorno quindi cominciamo dalla base del naso andiamo intorno, sopra le sopracciglia sotto gli occhi e di nuovo intorno e sarà sciato tutto il make up, ma che se ne frega ok, quindi andiamo a fare questo movimento qui sul tuo viso parte dal naso, salgo su, premo sulle sopracciglia faccio il giro, e di nuovo ok, ancora tre due uno perfetto ultimissimo massaggio questo sarà leggermente doloroso ma è il più effettivo di tutti andremo a fare un po' di pressione qui ti mostro il punto esatto e sotto il sopracciglio all'esterno proprio dell'occhio all'interno dell'occhio scusate, qui ok e andremo a premere con il pollice finché proprio sentirai troverai anche la zona perché sentirai che proprio si crea un po' di dolore se per te il dolore è troppo puoi anche premere puoi rilasciare puoi premere e puoi rilasciare se invece reggi il dolore io ti direi di premere per 30 secondi un minuto e puoi rilasciare e sentire tantissima differenza quindi così trovi il punto e questo esattamente e questo rilasciarà tutte 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 le tensioni che si sono accumulate qui sui muscoli degli occhi ti usiamo tantissimo anche davanti allo schermo per studiare leggere per vedere meglio ok quindi mi avvicino trovo il punto esatto e dimmi se va troppo male o se posso continuare a premere quindi tieni gli occhi chiusi e respira cosa faccio? continuo ok contiamo ancora 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 12 13 14 15 15 18 18 19 19 19 18 19 19 19 19 19 20 20 20 19 19 24 23 24 24 25 25 24 26 26 26 27 27 27 io spero che questo massaggio veramente ti abbia rimesso il mondo e che ti abbia sciolto tutto lo stress proprio accumulato nei muscoli del viso adesso rilasciamo ancora un po' con un po' di calore dopo comincia ad aprire l'autotisana e l'ultima cosa che facciamo è questa ho preso questo stress relief coloring book andremo a colorare insieme una di queste illustrazioni che sono molto semplici perché sono anche molto personalizzabili e appunto ci rilasseremo colorando cominciamo con un po' di tracing e ho scelto questo perché appunto era il più semplice io non so disegnare, non ho molta fantasia in questo ambito quindi volevo qualcosa proprio che fosse il più basico possibile e qui poi si vede che in realtà volendo puoi aggiungere la tua creatività non sarà questo il mio caso però ve lo faccio vedere all'interno vedete i disegni sono molto semplici alcuni un pochino più elaborate di altri e poi questo ne ho già fatto solo uno che è questo qui molto semplice mi piace molto come è venuto e poi ho fatto anche parte di questo andiamo a scegliere insieme cosa vado a colorare ma prima andiamo a tirare fuori questi pennelli i pennarelli e ho scelto questi pennarelli perché mi piaceva faccio vedere questo volevo questa punta così tipo quasi a pennello e dall'altra parte in una punta invece di precisione molto carini secondo me carinissimi ci sono un sacco di colori anche molto temi quindi andiamo subito a utilizzarli li metto qui così così riuscirete a partecipare alla scelta di colori allora mi piace molto questo oppure mi piace molto questo con i fiori mi piacciono i fiori oppure questo con i funghi molto dolce oppure avevo visto questo e in realtà vorrei provare a cimentarmi in questo un pochino più complesso leggermente ho paura un po' di scegliere dei colori che non c'entrano fra di loro ma qui non c'è nessuna pressione quindi chi se ne bisogna mettere qualcosa sotto in modo che non manchi il foglio tubo allora io partirei dal fuoco che almeno questo so come renderlo e voglio farlo di un po' di questi colori qui no? quindi giallo arancione giallo giallino arancione e poi rosso quindi partirei da questo giallo anzi partirei da questo arancione e lo metterei proprio solo qui sul bordo del disegno sia da una parte sia dall'altra per creare uno sfumato semplice magari un pochino di più e adesso andiamo a mettere il giallo all'interno ok dai ci sta alla fine e vado a mettere poi due rossi andrei a mettere questo che sembra un arancione scuro e questo guardiamo ok questo lo vado a mettere giusto bello rosso immagino l'altro come sia e vado a provare a seguire un pochino le forme del fuoco esterno ok e leggermente più spesso ok e adesso vado con il rosso rosso che è molto molto simile direi identico si vede molto molto poco la differenza e mi piace molto questo ombre e andiamo a finire con un marrone per la linea per la linea ok vado a fare anche delle striature calde tipo qui così mi sento ispirata e poi vediamo le scintille di che colore sono sono gialle giusto sì le vediamo gialle quindi andrei a usare questa parte no magari dopo però vorrei fare un po' di scintille allora 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 dobbiamo scegliere come fare il camino io lo farei sui toni del grigio onestamente e magari colorerei intorno anche perché più o meno color pietra circa di quello che sono i camini allora vediamo 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 posso avere questo o questo grigio vediamo proviamolo qui ok questo grigio è molto particolare proviamo questo sono quali beh effettivamente sono molto simili vediamo questo è un po' più blu e allora facciamo questo ok allora intanto io farei solo il contorno e questo qui oppure quelli farei neri non marroni scuro però grigio marrone no vediamo 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 vabbè intanto facciamo questo allora quindi vado a colorare questo bordo prima faccio la cornice allora ho scelto questo perché come sapete se c'è una cosa che mi rilassa tantissimo il suono e l'idea del calore del camino quindi per me quando si parla di stress appena penso questo cammino penso invece a relax e tranquillità non so se sia così anche per voi ok vedete il colorare non è il mio talento e poi direi che facciamo anche questo uguale quindi facciamo prima i bordi ok i tracci pian piano delle linee ho visto una ragazza sull'altro social che fa live proprio di coloring e avendo poi i suoi disegni carini molto rilassanti lappiamente bravissimo e vado pian piano a riempire riempire i bordi eccoci qua io vado anche sulla parte sulle ok ma che felino posso dire e direi che farei anche questo di questo colore a questo punto tutti questi tutti questi cosi esterni li farei di questo colore colore pietra quindi andiamo a colorare i bordi e dentro ok devo pensare di colore fare le calze immagino rosse bianche o magari verdi dunque devo dire che sia colorare che sempre fare un puzzle sono attività che io sempre come dire non ho mai considerato ma soprattutto la sera per staccare completamente la testa è veramente una buona un bel passatempo se si ha bisogno proprio di pensare a tutt'altro e di avere qualcosa però che ci aiuti a concentrarci ok forse non dovevo fare questo grigio vabbè mi piace tantissimo questo pennello pennello questo pennello morbido pennarello morbido e anche per un puzzle devo dire che la sera mi rilassa e secondo me è un po' più carino magari di guardare una serie di un'altra cosa molto bella che si può fare è colorare mentre si ascolta un video smr sarebbe carino che vi ascoltate anche solo questo video mentre colorate e e ho scelto che questi invece li voglio fare di questo colore, spero non venga troppo scuro, ma li vorrei fare di questo colore un po' crema, se li coloro, ma direi che li coloro, e spero non ci stia troppo male come colore, speriamo. E comunque cominciamo da questi, anzi cominciamo dalle calze, le calze le farei rosse onestamente, e sto pensando se farle in maniera particolare, no, le farei, mettiamo un pochino di colore, le facciamo rosse e verdi, che sono un pugno nell'occhio, però ci vuole un po' di colore, quindi le faccio verdi sopra e rosse sotto, che bello questo verde. E pian piano spennello, Ok, adesso guardiamo come ci sta il rosso, ci starà malissimo. Allora, se è uno rosso di prima, vabbè dai, natalizio. Faccio il contorno anche qui. Adesso è un altro, devo dire che sono molto soddisfatta del fuoco, mi è venuto bene. Ok, la terza. E due, tra l'altro la candela, non so se sentite, va. Vabbè, c'è lo screcchio lì, mi sembra quasi che questo fuoco abbia vita. Carino. E due. E due. L'ultimo, l'ultimo, l'ultimo. Ok. E tre. Ma dai, sono anche carini. No, è bellino, sapete? Ok. Adesso questa fiamma la facciamo. Gialla. Queste due fiamme. Magari dopo facciamo un contornino più rosso. E adesso vediamo. Allora, a me piacciono un sacco tipo i rosa, così però ho paura che non ci stiano granché bene. Quindi, vediamo che colori ci possiamo mettere. Allora, forse è azzurro, no? Però forse altri toni delle verde. Sì. Facciamo questo verde. Anzi, questo mi ispira. Tipo, guardiamo intanto, facciamo questo. Ok. Che bello questo verde. Non saprei come scrivere. Verde erba. Molto carino. E vediamo. Potremmo fare anche questa parte. Verde. Il piocco verde. Ok. E poi potremmo, potremmo, potremmo fare il resto magari sull'arancione. Allora, vediamo. Questo verde sotto potremmo metterci un altro tipo di verde. oppure un giallo, oppure un blu, 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 blu. Noi mettiamoci. Se sta bene con il verde e il rosso. Ma chi se ne fraga? Io ci metto un po' di rosa. Ok. Mi piace un sacco il verde con il rosa. E come previsto ci sta malissimo. Ok. Che bello questo combo colori, però. Verde e rosa. Carinissimo. Carinissimo. Ok. E faccio di questo rosa anche all'interno di questo cuore. Ok. Vediamo. Questo, questo, questo lo voglio fare arancione. Allora, facciamo anche questo, un tono arancione. E poi facciamo qui. Bellissimo questo arancione, l'arancione tramonto. E' uno dei miei colori preferiti, insieme al rosa tramonto. Ok. Bello, però. Quindi dobbiamo scegliere questi due colori. Vediamo cosa possiamo scegliere. Potremmo scegliere, scegliere, scegliere. Ci mettiamo un altro colore ancora, no? Potremmo metterci un bel giallo qui. Ok. Così, dai, almeno questo. Lo faccio al coperchio giallo. Ok. E... Questo faccio al scatola giallo. Allora, anche questo li vorrei fare di povero. Ok. Sentite ora la candela. Ok. 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 ok questo è aperto con questo giallo ci può star bene ma l'azzurro non ce lo metto perché lo metterei solo qui il rosso ce lo vorrei mettere però è già qui ma mettiamoci un altro rosso chi se ne frega facciamo tanto rosso come colora bene ok e adesso non ci resta che colorare questo di questo color crema guardiamo bello ma sì o magari solo l'interno o solo l'esterno allora intanto facciamo i bordi ci sono ok e anche da questa parte sto cercando di usare la parte più spessa così però sapete che bello così anche solo il bordo e qui e qui e qui ok mi piace un sacco vari bordi e poi forse direi che coloriamo semplicemente la base la base la coloriamo quindi rifaccio i miei bordi anche qui e coloriamo ok ok io vorrei fare anche un colore però qui all'interno però non vorrei che vediamo ma sapete cosa io faccio un bel nero qui all'interno solo qui all'interno ok così risalta il fuoco no quindi spero risalto comunque questi sfondi sono neri no perché il marrone scuro dopo si perde il marrone della legna ok seguiamo un pochino i bordi ok anche qui e direi che l'ultima cosa che faccio su questo disegno secondo me come viene secondo me sapete che viene bene oh ma è bellissimo ho avuto proprio una bella idea modistamente oh ma è bellissimo così ma sta proprio bene sembra proprio che il fuoco abbia abbia vita propria è meraviglioso bene io direi che lo manteniamo così ditemi se volete di che quello li avreste fatti voi guardate e io direi che ora passiamo direttamente alla panel io spero che anche questa parte in cui coloriamo insieme ti sia piaciuta e io spero davvero che lo stress sia passato che tu sia riuscito riuscita di comprimere tutto e ti sento proprio più leggera leggera anche il viso anche il viso ben rilassato e io direi che penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio che se aggiunta se aggiunta l'ora dell'ora dell'ora avassare le luci ci e augurarvi augurarti e augurare a te augurarti augurarti augurare a te una buona 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 notte sogni d'oro good night sweet sweet buona notte dolce buona notte buona notte e te show your hand good night le canoste buona dei piccoli pasticini alla fragola un bacione che respirano che rispera che rispera che rispera che rispera quindi levante